Buongiorno, oggi escursione finalmente, una bella passeggiata tranquilla, però oggi un video diverso dal solito, perché vi volevo parlare di una borraccia, ma non una borraccia qualunque. State collegati e capirete di cosa vi voglio parlare. A dopo! Grazie a tutti! Vi è mai capitato di fare escursioni in montagna e dovervi rifornire di acqua prendendola da sorgenti o fonti tipo questa, oppure questa anche. O magari direttamente da un torrente, oppure da dove sorge direttamente da queste rocce. Con la preoccupazione magari di non essere sicuri della purezza dell'acqua e magari problemi di pancia, a me sì, per fortuna mal di pancia mai, però mi è capitato anche a me di rifornirmi di acqua da queste sorgenti. Solo che però adesso ho trovato la soluzione giusta per evitare tutti questi problemi. Rieccomi, vi presento il progetto Bye Bye Bottle. Questa è Luxuria, è una borraccia che è in grado di sterilizzare l'acqua in tre minuti tramite raggi UV di tipo C che possono eliminare germi, batteri e virus al 99,9%. Mi sarà capitato appunto di andare in qualche escursione e magari aver bisogno di rifornirvi di acqua sul sentiero, ci sono i ruscelli, ci sono le fontanelle, ci sono le sorgenti, però c'è sempre stato il dubbio magari, a me è capitato, che magari dopo qualche ora arriva il mal di pancia. A me il mal di pancia sinceramente per fortuna non mi è capitato, mi è capitato spesso di dovermi rifornire appunto da fonti magari non così sicure. Con questa borraccia il problema è risolto. La borraccia il suo utilizzo è molto semplice. La tecnologia è contenuta all'interno del tappo dove vengono emessi raggi UV di tipo C da qui. Qua c'è una protezione in gomma che viene tolta quando si deve ricaricare la borraccia tramite il cavetto, si appoggia il magnete che è attaccato al cavetto e in un'ora e trenta circa si ricarica il tappo. Ogni ricarica può essere usata per 55 volte, quindi ogni 55 volte potete sterilizzare l'acqua che è contenuta all'interno. La borraccia è di mezzo litro, è leggera, è molto comoda, è veramente pratica. Ora vi mostro come funziona la borraccia direttamente dalla fonti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dovete schiacciare il tappo qua sopra, non so se si riesce a vedere ma bisogna aspettare tre minuti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quando è uscita la V, l'acqua è potabile. Grazie a tutti. Adesso vi mostro che la bevo. Tutto in diretta. la borraccia è di mezzo litro, leggera ed è anche termica, cosa molto importante. Sul sito viene indicato che l'acqua che viene messa all'interno si può mantenere fresca per circa dieci ore. Il progetto va bei bottol è quello di destinare il 5% del ricavato dalla vendita della borraccia ad associazioni che si occupano nella pulizia di boschi, mari e di spiagge. Se siete interessati alla borraccia e siete interessati soprattutto al progetto che c'è dietro vi lascio il link in descrizione per andare a vedere il sito dove vengono anche specificate di più le qualità della borraccia e ci sono anche molti più dettagli. Insieme al link del sito vi lascio anche un codice sconto che i ragazzi di Bye Bye Bottol mi hanno dato per acquistare la borraccia. Se siete veramente interessati io ve la consiglio veramente perché oggi mi sono reso conto che è davvero davvero comoda. Quindi compratela e ci vediamo al prossimo video. Ciao!